Buonasera, Danilo Gasparini, insegno storia del cibo e dell'alimentazione. Dove mi chiamano, in realtà, e si vede anche, ho un PIL molto importante, insomma, un prodotto interno lardo, molto importante. Quello che voglio raccontarvi oggi in termini appunto di innovazione, tradizioni, radici, è legato al cibo. Io partirei da alcune constatazioni di tipo così, molto generale. Se dico a voi, a uno di voi, sei un tradizionalista, coltivi la tradizione, non è che veicolo dei valori straordinari. Anzi, è sinonimo di vecchio, è sinonimo, se volete, di statico, di poco dinamico, di ottuso, di chiuso. E quindi parlare di tradizione, generalmente, noi veicoliamo spesso e volentieri questa immagine. Eppure, quando noi parliamo di altri settori, che non sia il mio, che è quello del cibo, si dà per scontato che innovare è bello in economia, innovare è bello in tutte le scienze, innovare è bello nella società, innovare è bello anche nella morale. Ma quando affrontiamo invece un tema come quello del cibo, dell'alimentazione, ecco lì siamo un po' sospettosi, cominciamo ad arricciare il naso, cominciamo ad avere dei sospetti su quella che è la cucina innovativa, non sempre siamo d'accordo, e trasliamo questa sorta di valori da negativi a positivi per quanto riguarda il cibo. E qui si costruisce poi tutta una grande retorica, per cui allora bisogna difendere la tradizione, bisogna difendere i cibi tradizionali, bisogna difendere i prodotti tradizionali, bisogna difendere i piatti della tradizione, della cucina, bisogna promuoverli, bisogna promuovere il territorio. A volte penso che insegnando il territorio magari qualche volta non meriti di essere promosso, magari rimandato a settembre, come si faceva una volta. Allora mi domando e mi sono chiesto perché quando noi ragioniamo attorno al cibo, ragioniamo appunto attorno ai piatti, alla nostra cultura alimentare, siamo così radicati, ci costruiamo su feste, ci costruiamo un sacco di eventi, abbiamo costruito perfino, pensate, delle confraternite attorno al cibo. Fino agli anni 50 le confraternite erano quelle del Santissimo Sacramento, della Maria Ausiliatrice, adesso abbiamo la confraternita della patata, abbiamo la confraternita del prosecco, del basilico, e celebriamo grandi riti prendendo a prestito riti di tutti i tipi. E la tradizione è presente nella nostra vita, nella nostra storia. Oggi è San Martino ed è tradizionale festeggiare questo santo che è legato al ciclo agricolo. Allora la domanda è cos'è che fa sì che noi appunto radichiamo nel cibo e nell'alimentazione un valore così forte da farci resistere ed essere resistenti, da fare a volte, perché io ho assistito a casi in cui, non so, si è andati dal notaio a depositare la ricetta di un piatto. Eppure sappiamo che la cucina, da che mondo è mondo, è una cucina dinamica, contaminante. Non c'è quanto la cucina e il mondo alimentare che si contamina. Siamo contaminati e se ricorriamo la storia evidentemente questo è evidente. Noi è vero che siamo quello che mangiamo, ma spesso e volentieri mangiamo anche quello che siamo. E io vi vorrei raccontare appunto, per arrivare a concludere poi, che la tradizione siamo noi e la tradizione è oggi e la tradizione è il futuro, partendo da uno dei grandi prodotti della tradizione. Ho portato qui una fetta di polenta. Per i Veneti, per il mondo trevigiano, evidentemente questo è un cibo sacro. C'è uno stereotipo poi, voi sapete, Veneti polentoni. E ci si vergognava un po' in giro per il mondo quando ci dicevano, beh, veneti polentoni, poi c'è chi faceva anche un po' di pausa, un po' lentoni. Poi c'è quel proverbio che ci accompagna ormai da secoli, che ci dà l'idea di cosa pensano, hanno pensato dei Veneti. Pensate, ve lo dico in dialetto trevigiano, poi magari lo potete fare la traduzione simultanea. Meglio polenta senza niente che niente senza polenta. Tradotto, meglio appunto polenta senza niente che niente senza polenta. Ma cos'è che fa sì che a un certo punto, quando mangio polenta, io difendo una tradizione e mi sento legato a una tradizione straordinaria, e quando mangio delle tortillas, questa tradizione non c'è più, salta. Sono un po' esotico se mangio le tortillas, strambo. O itacos. Eppure, alla base di questi due cibi, c'è una materia prima che è identica, che è il mais. A itacos è legata la teoncite, non la vedete, ma questo è l'antenato del mais. Fate conto, 6.000 anni avanti Cristo, Mesoamerica. Da questa teoncite siamo arrivati a questa. Un po' di storia è arrivata. Ma la cosa curiosa è che quando questa pianta arriva da noi, non si porta dietro il modo in cui la mangiavano in Mesoamericani. I Mesoamericani non facevano polenta, non l'hanno mai fatta. Mangiavano tortillas, mangiavano tacos. Il mais arriva qui, voi sapete, con il viaggio di Cristoforo Colombo, che andava in cerca di tante altre cose. Andava in cerca delle spezie, in realtà, e si è trovato il tacchino, si è trovato il cioccolato, si è trovato tante cose. Quando arriva, evidentemente, cosa succede? Che il mondo padano, il mondo veneto, prende questa farina nuova, la sostituisce con delle altre farine. Prima era abituato a mangiare le polende, le polende, se volete, di miglio, di sorgo, di tante cose. La sostituisce. Ed è un'innovazione, non è una rivoluzione, non cambia niente. Ha trovato un prodotto nuovo, importante, che lo sazia di più. E questa è un'invenzione straordinaria, perché permette ai Veneti di scolinare le grandi crisi di fine Cinquecento, permette di scolinare, appunto, le carestie. Permette anche, ahimè, nel corso dell'Ottocento, di far sì che molti contadini veneti, ammalati di pellagra, abbiano a pagare un prezzo alto per mangiare solo polenta. Cosa succede, allora, a un certo punto, quando noi recuperiamo la polenta, a partire soprattutto dagli anni Settanta, Ottanta, quando adesso mangiamo una polenta? Abbiamo sostituito quei valori, o disvalori, se volete, perché a quell'epoca si mangiava polenta per necessità, per fame, non per scelta. C'era quella. A quel punto io sostituisco quei valori, perché non ho più la necessità di mangiarla con altri valori, che sono i valori dell'identità. Io leggo a un cibo dei valori di identità forte. Perché se mangio una mela non faccio una tradizione, un gesto di tradizione? Eppure la mela è presente ad Adamo ed Eva. È andata così quella volta. Che se Eva avesse detto ad Adamo, sta attento, prenditi tu la mela. Il destino delle donne sarebbe stato molto diverso. Non avrebbe dovuto preparare i piatti ancora oggi, essere schiave della cucina, spesso e volentieri. Perché la polenta? Perché allora attorno alla polenta ci sono evidentemente dei valori di identità, fortissimi. Perché oggi mangiare la polenta significa un cibo di convivialità. Sono nate le feste della polenta, i festival della polenta. È nata anche un'associazione straordinaria, i polentari d'Italia. Pensate a Carlo Marx che diceva proletari di tutto il mondo, unitevi. Adesso polentari di tutta Italia, unitevi. Perché poi l'abbiamo esportata in Brasile, l'abbiamo esportata in Sardegna, l'abbiamo esportata un po' dappertutto. Questo per dirvi che la tradizione è dinamica. Io di volta in volta riempio questo cibo, in questo caso, ma tante altre cose, di valori nuovi. A questo punto ho dimenticato i secoli, ho dimenticato tutte le tragedie legate e l'ho riempita di cose nuove. E attorno a questa ho inventato altre cose. Per ritornare a quello che si diceva, a questo punto avete visto qua, più couscous e meno polenta e prima più polenta e meno couscous. Ma sono d'accordo perché il couscous, tutto sommato, è la polenta del Mediterraneo. Allora a questo punto il messaggio che io voglio dare è proprio questo. La tradizione è un'invenzione e si rinnova sempre. È dinamica, non si ferma mai. Proprio nel mondo del cibo e nel mondo della cucina. La tradizione siamo noi. Avete presente una pianta? Visto che si parla di radici. Noi di una pianta le radici non le vediamo e vediamo solo il frutto. E più larghe sono le radici, più la pianta è in grado di produrre dei frutti nuovi. Ecco, noi siamo il frutto di una pianta che ha tante radici. Basta saperlo. E non aver paura del nuovo. Non aver paura del nuovo e non aver paura di innovare. Per noi poi, per i veneti e per i trevigiani, il cibo è un valore straordinario. Traina. Traina tante cose. E quindi se noi abbiamo la minima coscienza che quando mettiamo in bocca un pezzo di polenta, mettiamo in bocca cinque secoli di storia, mettiamo in bocca tragedie, ma l'abbiamo riempito di cose nuove, credo che questo sia un grande passo perché siamo noi che facciamo la storia. Anche come mangiamo. E allora io concludo dicendo a voi, guardate, buona polenta a tutti quanti e soprattutto speriamo che sia Veneta e non solo. Grazie e a presto. Applausi Grazie.